Non sarà solo una guida, ma ci saranno ben cinque guide che accompagneranno i visitatori. In questo caso i visitatori saranno i pesaresi, visto che i turisti non ci sono, non si viaggia. E quindi noi abbiamo pensato di dedicare il nostro lavoro, la nostra professionalità, di metterla a disposizione dei cittadini. Quindi questo è un modo anche per reinventarsi, per continuare a lavorare, per condividere con i pesaresi il nostro sapere. Anche le curiosità che mostrano spesso i turisti quando vengono a Pesaro e vedono i nostri monumenti, noi vorremmo condividerli con chi vive a Pesaro. Quindi ci mettiamo a disposizione dei cittadini per fare queste visite e questa giornata noi la prendiamo proprio come occasione, visto che si celebra la giornata della guida turistica a livello mondiale, anche per far conoscere questa professione, che spesso viene confusa, non la si conosce molto bene e quindi noi vorremmo proprio presentarla, come si diventa guide, quali sono le difficoltà che incontriamo. Siamo lavoratori autonomi, quindi difficoltà ne abbiamo tante. Quali saranno le tappe della giornata? Quindi saranno cinque tappe, sono tour tematici che ciascuna di noi svolgerà nel centro cittadino. Ognuna di noi quindi racconterà un pezzo di storia di Pesaro o anche di personaggi famosi come Rossini di Pesaro e saremo noi ad accompagnarli, quindi non saranno mai lasciati soli i visitatori perché proprio sarà una staffetta. Quindi questo si svolgerà domenica mattina alle 10. Saremo tutte pronte lì alla grande sfera di Annaldo Pomodoro, in Piazzale della Libertà, ad accogliere i cittadini pesaresi. Per partecipare, com'è possibile? Allora, c'è un numero di telefono che noi abbiamo pubblicizzato. Silvia raccoglierà le adesioni, una di noi, siamo cinque guide. Si prenota la visita, ci si può presentare anche lì direttamente, ma è meglio prenotarsi perché poi bisogna anche rispettare tutte le leggi adesso vigenti anti-Covid. Si paga un biglietto simbolico, diciamo così, e poi si inizia. Grazie. 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 Grazie.